Zernia è pronta a vivere nuovamente l'appuntamento con il torneo di calcio a 5 dell'Ignazio Silone che rappresenta un massimo della propria estate. Saranno due i tabelloni che animeranno la competizione, quello elite riservato ai big del futsal e quello classico. Lunedì ci sarà la partenza di un evento che, come da tradizione, richiama nomi di tutto rilievo nell'ambito della disciplina, non solo a livello regionale, ma anche nazionale, con la presenza sugli spalti di tanti addetti ai lavori. Tra loro, quest'anno, potrebbe esserci anche il tecnico di Zernino, arrivando fino alle semifinali scudetto con l'Ital Service Presano, Fausto Scarpitti, in passato anche protagonista come competitor nell'appuntamento. Ogni sera sarà l'occasione per assistere a delle gare particolarmente intense, che dalla fase al gironi fino a quella di eliminazione diretta, caratterizzeranno con forza una competizione che si annuncia molto serrata e carica di spunti. Chi la spunterà poi nelle due finali dei tabelloni che arriveranno? Sarà il mese di luglio a fornire l'atteso verdetto. Chi è spuntatellale? Chi è spuntatellale? Chi è spuntata una bench ora goldenria? Chi è spuntatellale? Chi è schiena la esperanzaode? a me sc Hm. Grazie.